Allora, buongiorno a tutti, è per me un vero piacere avere la possibilità di presentare nella mia classe del corso di politica economica internazionale un libro che si intitola Uscire dalla guerra per un'economia di pace, è stato pubblicato dall'editore Cittadella di Assisi esattamente nel novembre del 2023, i curatori sono Antonio De Lellis, Rosetta Placido e Stefano Risso e qui abbiamo il piacere di avere con noi Antonio De Lellis e Rosetta Placido. Innanzitutto vorrei presentare i nostri due ospiti e poi vorrei fare una piccolissima introduzione per cercare di far comprendere il senso di questo incontro. Antonio De Lellis è membro del centro studi Pax Cristi Italia, è laureato in economia, è rappresentante legale di ATTAC e è molto impegnato nelle attività che potremmo così dire organizzate dalla società civile, questo è un concetto che per esempio è molto presente nel modo di fare politica economica in alcuni paesi europei, tant'è che addirittura nei bandi che vengono gestiti dalla Unione Europea, ci sono sezioni proprio dedicate alla civil society, è un qualcosa al quale noi ci siamo abituati poco, nonostante per esempio il nostro dettato costituzionale preveda sempre una grande attenzione alla cittadinanza e alla cittadinanza attiva in particolare. Le caratteristiche di impegno civile sono anche presenti grazie a Rosetta Placido che è stata insegnante in Perù, in Spagna, in Italia, è stata presidente della costa etrusca di Lega Ambiente, anche lei è stata referente di ATTAC Italia per l'Abruzzo ed è stata impegnata in diverse campagne per la promozione e il rispetto dei diritti umani e per la pace. Chi ha partecipato alla stessura del libro proviene però da mondi diversi, io non sono l'unico economista professionista che ha scritto in questo libro di testo, vorrei almeno ricordare una collega che in questo momento si trova in Medio Oriente, in particolar modo nei territori della Cis Giordania, più interessati anche dalle conseguenze della guerra a Gaza, che si chiama Clara Capelli, che è stata fra l'altro anche una mia studentessa quando faceva il dottorato di ricerca a Pavia, ed è una esperta di economia dello sviluppo soprattutto per il Nord Africa e per il Medio Oriente, ed ha scritto un contributo molto bello e purtroppo precursore di quello che sarebbe poi accaduto. Questo testo è stato pensato e discusso prima del 7 ottobre e Clara Capelli però aveva un punto di vista molto attento all'escalation di conflittualità e di violenza che si respirava già in quel momento. Ma ci tengo anche a dire che vi è un bellissimo testo di Francesco Gesualdi, che forse qualcuno di voi conosce, quando avevo l'età vostra in un corso del genere probabilmente Francesco Gesualdi sarebbe stato molto noto, perché è il coordinatore del Centro Nuovo Modello di sviluppo, che soprattutto all'inizio degli anni 2000 ha avuto un ruolo molto importante anche nella discussione politica e nel dibattito anche legislativo indirettamente. Vi è un ex senatore della Repubblica, uno dei capisaldi del pacifismo italiano che era Nero Lavalle, che ha scritto all'interno di questo testo e vi è anche un testo che a me pare molto importante, che per voi potrebbe essere molto interessante, che ha scritto Antonio Mazzeo, che è un giornalista impegnato sui temi della pace e della militarizzazione attraverso l'insegnamento nelle università, ma non solo. Ha denunciato queste tendenze in diversi articoli e nel 2020 è stato premiato dall'archivio di Sarmo con la colomba d'oro per la pace. Allora, per dirvi che oggi non sarà una lezione di economia, io non farò il professore. Anche le volte in cui i miei ospiti commetteranno alcune imprecisioni, io starò zitto perché l'obiettivo di questo testo e l'obiettivo di questo incontro è mostrarvi, come dire, la necessità di costruire un discorso sulla pace, un ragionamento sulla pace anche a partire dalle diversità di coloro che vogliono lavorare su questo tema, che è un tema che è estremamente complicato far giungere dentro le università in questi momenti. Potrei stare tanto tempo a raccontarvi episodi di cui sono anche stato protagonista io, che in questi mesi mi hanno profondamente segnato. Non lo faccio, però cerco qui sì invece di elevarmi ad analista e segnalo il fatto che è del tutto normale nella storia dell'uomo che in alcuni momenti le pressioni che vengono esercitate da tutti coloro che auspicano una normalizzazione dell'idea di guerra possano segnare anche il dibattito pubblico cercando di rendere difficili dei momenti di riflessione collettiva in luoghi privilegiati e importanti come le università. Non farò neanche nessuna obiezione laddove il discorso possa essere emotivamente diverso rispetto a quello al quale siete abituati, proprio perché una delle difficoltà di portare un discorso sulla pace in un contesto di guerra come quello in cui comunque siamo implicati, pur non avendo una guerra che si combatte in questo paese, ma siamo un paese che sta contribuendo, mandando finanziamenti perché le guerre possano continuare, facendo parte di importanti processi di ricerca applicata al campo militare, la nostra testa di serie, che è anche una testa di serie a livello europeo, cioè Leonardo, è una delle principali corporation che oggi sta lavorando perché in questo momento il riarmo non sia, come dire, un oggetto critico all'interno del dibattito politico. Abbiamo anche il piacere di avere collegati alcuni amici che potranno intervenire ovviamente dopo che avrete il piacere di intervenire voi che avete insomma la priorità in questo momento e una nostra conoscenza perché è già intervenuto in questo corso che è Roberto Romano che ha anche il compito di scrivere una recensione per questo libro e infatti lo vedete già armato di calamaio e penna quindi io non faccio altro adesso che passare la parola ai nostri ospiti, ad Antonio Lellis e a Rosetta Placido perché la discussione possa cominciare. Grazie a tutti Bene, vieni qui davanti, poi puoi far scorrere le slide in modo molto semplice utilizzando il click e lasciando la friccetta qui. Allora grazie per questa opportunità, è veramente un onore dopo un incontro recente che c'è stato in una squadra in una scuola superiore di Roma, in un istituto collocato in una periferia dove ho visto che i giovani hanno un grande interesse a approfondire queste tematiche ma comunque a parlare di questo senso di guerra e contrapporlo con l'ambizione e l'aspirazione della pace possibile. Il libro parte da questa necessità di uscire dalla guerra, quindi presuppone che ci sia già per molti aspetti un'economia di guerra e questo anche in Italia e individua alcuni aspetti che possono contribuire a costruire un'economia alternativa che abbiamo chiamato un'economia di pace. Parliamo di un'economia quindi di una pace disarmata all'interno di una economia non violenta. Allora, l'immagine che vedete ci tengo perché alcuni di voi saranno stati a Sibiglia, vero? No. Allora, quando andrete, quella è la sala della capitolazione della cattedrale di Sibiglia. Una cosa stupenda. Entrando in questa sala uno ha la chiara percezione che esistono armonie, energie particolari che rimandano un po' all'idea di pace. Per questo è stata scelta. Ma entriamo nel merito. Intanto entriamo nei livelli di guerra che il libro considera, con riferimento soprattutto al contesto ucraino. E poi Rosetta affronterà meglio quello palestinese. Dal conflitto emergono che le zone di guerra sono sistematicamente occupate prima, durante e dopo da un sistema neoliberista, estremo, violento. In particolare l'Ucraina, e questo è un punto di rimente che voglio chiarire subito, si trova occupata dalla Russia, ma anche dal Fondo Monetario Internazionale e dalla NATO. Non entro nel termine, la spiegazione è che sono già. Contribuire a far cessare gli effetti nefasti di queste diverse occupazioni, diversi livelli di guerra, guerra finanziaria, militarismo e occupazione effettiva, quella della Russia. Ecco, far cessare questi livelli di guerra è uno degli obiettivi del libro, nel senso come un invito a riflettere su questa possibilità. Inizio con una frase che ci ha colpito molto e che vuole un po' segnare la differenza rispetto a tutte le posizioni che voi potete ascoltare in televisione, se avete l'opportunità di guardarlo, oppure sui social. Questa guerra in Ucraina, la domanda secca fatta a un noto direttore di giornali, di giornali è stata, quotidiani italiani, è stata, cosa ne pensi? Risposta stringata, questa guerra si sa chi l'ha iniziata, quindi non la continuiamo a ribadire questa cosa, si sa, ma si sa anche chi non la vuole far finire. Cioè c'è un interesse a farla continuare. E quindi il libro è questo, è un invito a non impantanarsi nella logica di questa difesa armata ad oltranza, ma è anche invito a guardare al dialogo e a una pace disarmata. Alcune di queste immagini che vi presento, alcune osservazioni sono del tutto, diciamo, forse così, pleonastiche per voi. Però lo voglio ribadire, perché non è mai, secondo me, così superficiale approfondire questo aspetto. Cosa fanno i fabbricanti di armi? Guadagnano sopra la morte di bambini, di donne, di persone in difesa e di popolazione civile. Sottraggono risorse di tutti alla spesa e ci allontanano da quella società della cura che noi vorremmo costruire, anche con questo libro. E ovviamente attaccano l'ambiente naturale, oltre che quello sociale. Quindi quando parliamo di economia di guerra, parliamo di questi due aspetti contemporanei, la disumanizzazione e il profitto di pochi e elevato profitto. E' talmente elevato questo profitto che è un quotidiano che si occupa solo di finanza e che è, diciamo così, in qualche modo ascrivibile anche ai poteri forti, quindi non può essere tacciato di settarismo ideologico, ha calcolato che dal febbraio del 2022, cioè dall'attacco della Russia in Ucraina, le prime 70 aziende produttrici di armi al mondo, tra le quali la Leonardo, già citata, dal professor Stefano Lucarell, hanno ripreso a crescere, vertiginosamente, il 325% di crescita, cioè di incremento di volume da fare. L'incremento poi valutato dal 2013 al 2023 della spesa militare è più 30%, naturalmente spiego, ma solo nel caso ci fosse dubbio, cioè la spesa che c'era nel 2013 in armamenti è aumentata a quella del 30%, quindi non è che la spesa conversiva del bilancio statale è al 30% per armi. Nello stesso periodo, solo per i nuovi sistemi d'arma è passata da 2,5 a 5,9 miliardi, quindi un incremento di 100-32%, mentre la sanità, la protezione ambientale e le istruzioni sono cresciute rispettivamente solo dell'11, del 6 e del 3%. Se qualcuno di voi dovesse credere che investire in armamenti e nell'industria bellica sia produttivo, se qualcuno fosse tentato di credere ai vari interventi che in questa direzione ci sono da parte di vari primi ministri, compreso la nostra Premier, la nostra Presidente del Consiglio, si sbaglia di grosso. Calcoli effettuati, ne cito solo una, ma ce ne sono tante, Greenpeace, rapporto Erming Europe, appena uscito, ogni miliardo speso investito in vari settori produttivi genera con un moltiplicatore inferiore ad 1 nel settore bellico solo 741 milioni, quindi 1 miliardo, 1000 milioni per 741 milioni, quindi vuol dire moltiplicatore inferiore a 1 e i posti che genera sono solo 3.000. Se la stessa cifra fosse investita nel settore ambientale creerebbe 1.900 milioni, quindi con moltiplicatore pari a 1,9 e 10.000 posti di lavoro. Nella sanità creerebbe 12.000 posti di lavoro e nell'istruzione, settore a cui appartenete, 14.000 posti di lavoro nuovi. quindi nego qualunque convenienza anche economica a investire in armamenti. E quindi, riassumo, la guerra produce questi morti naturalmente, gli invalidi, fisici, ma anche psichici, devastazione ambientale, una crescente insicurezza globale e poi l'impoverimento effettivo e della distruzione di tutte le prospettive di futuro. Quando parlo di futuro parlo soprattutto della vostra vita da qui in avanti. e questo anche nei paesi che dovrebbero trarne profitto. Cioè anche nel paese in cui ci sono quelle industrie armiere o di armamenti che producono, si dice, un incremento di volume d'affari e quindi anche un aumento di posti di lavoro. Cioè anche in quelle società si crea una perdita di prospettiva. Ovviamente cito anche un altro almeno per farvi comprendere che insomma un po' di studio c'è anche in questo libro che ovviamente oltre ad avere il contributo di valenti economisti come il professore Stefano Lucarelli Roberto Burlando e Clara Capelli e anche un libro di attivisti cioè di gente che vuole capire studiare approfondire. L'Institute for Economics and Peace che ogni anno e tra poco pubblicherà quello del 2024 con riferimento all'anno prima misura proprio l'impatto di questa guerra in termini di maggior investimento e quindi anche in termini di cifra equivalente al PIL mondiale che viene spesa per gli armamenti e sono dati impressionanti. vedete nei paesi principalmente coinvolti il calo del PIL a seguito della guerra parlo dei paesi coinvolti nel conflitto ucraino-russo è pari al 34% vado dicendo qualcosa di importante poi ci sono le slide che riguardano le guerre capitalisti che io presento quando non ho accanto il professore che... ma fanno anche adesso loro così ripassano ripassano beh a me quello che è piaciuto diciamo della tesi corroborata da calcoli notevolmente documentati quindi insomma mi ha convinto moltissimo e promuovo questo è che le corporation al mondo sono sostanzialmente controllate per circa l'80% da pochi soggetti dal 2007 al 2008 gli indici di controllo indicano proprio questo livello di concentrazione che possiamo dire così definire come il pesce grande che mangia il pesce piccolo che è l'immagine che ATTAC l'associazione che io presiedo utilizza nel proprio sito come immagini proprio in Italia almeno e accade anche che sia gli Stati Uniti sia la Cina che l'Unione Europea vivano questo processo che da una parte è un tentativo di integrazione commerciale ma dall'altra è protezionismo che scontrandosi determinano una conflittualità con un accumulo di spese militari spero di averlo detto in sintesi e questo è proprio un soldone il pensiero che io ho tratto ma che comunque va arricchito l'hai sintetizzato bene queste sono alcune slide che loro conoscono molto bene andiamo avanti e questa anche anche questa ma se la vuoi commentare quello che commento è che le parti in gialle che ho evidenziato sono quelle dei paesi che hanno una posizione netta sull'estero negativa e tra queste però ci sono Stati Uniti India Inghilterra Francia Australia l'Italia per poco non è per questi paesi ma dall'altra parte ci sono Russia Cina soprattutto Arabia Saudita e quando nell'incontro precedente all'istituto superiore abbiamo cercato di far capire anche perché i personaggi come Trump hanno successo perché quel numero indica che negli Stati Uniti la percezione però corroborata da dati reali della posizione netta sull'estero negativa è forte e quindi nel momento in cui esiste un presidente che è candidato ma lo è stato già che pone al primo livello l'obiettivo first America prima l'America e che pone come secondo obiettivo guerra per lo meno commerciale ma anche pronti ad altro alla Cina quello è il numero che guarda quello è il numero su cui insiste e quello è il numero che pesa su molte aziende ovviamente statunitense ma salto un po' di più così lascio spazio anche a lei questa l'avete già vista qui la conoscete e questa è una frase sua che mi è piaciuta molto anche ribadisco questa inedita combinazione queste tendenze generali generano appunto un equilibrio di guerra che però rischia di estondare al di là dei confini ucraini questo è un'espressione molto forte che significa però che non solo attivisti ma anche economisti professionisti guardano quel conflitto come un rischio reale e quindi non fidarsi di questo apparente equilibrio di guerra che però genera il rischio costante di una esondazione ora potrei entrare in alcuni aspetti che non so se voi vedete perché in fondo forse queste scritte sono sottili ma comunque esisto nella guerra in Ucraina esiste un pre-7 ottobre le tensioni tra Nato e Russia in Ucraina 3-24 febbraio 7 ottobre 7 ottobre ne parlerei le tensioni Nato-Russia hanno tutta una storia le tensioni tra la Nato e la Russia e queste sono alcune delle date io poi mi soffermo su alcuni aspetti e cosa dice il contributo di Matteo Bortoron uno dei nostri attivisti che ha studiato cosa accadeva in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 siamo stati bombardati dall'opinione dall'inizio il conflitto da notizie sul fronte di guerra ci siamo dimenticati quello che è accaduto prima in Ucraina e cioè che l'Ucraina è stata con un sostegno occidentale molto discusso sostegno occidentale anche in termini militari prima del 24 febbraio e che questo assetto interno dell'Ucraina è stato proprio plasmato dall'assistenza euro-atlantica l'assistenza però che cos'è è un esperimento neoliberista estremo cioè assistenza prestiti che però legano che però ingabbiano che però precludono qualunque futuro e ora vi do solo dei dati allora questo per farvi capire quando diciamo ma l'Ucraina vuole entrare in Europa tenete presente che comunque esisteva un'altra realtà dei paesi della Russia e dell'ex Unione Sovietica che si condensavano si riunivano diciamo sotto la comunità degli stati indipendenti o CSI quindi questo solo per notizia esisteva una sorta di Unione Europea però dei paesi Russia e ex Unione Sovietica nel 2008 e ancora prima quindi di questi esperimenti neoliberi al summit della Nato accadde questo i paesi e la Nato in particolare proposero l'allargamento dei piani di azione Nato all'Ucraina il secondo giorno fu invitato anche Putin che allora era ancora un alleato e disse no ma dissero no anche altri paesi tra questi l'Italia la Francia la Germania i paesi bassi questo per farvi intendere che tentativi della Nato di occupare l'Ucraina o di imporre a tutti i piani soprattutto alla Russia i piani di azione Nato parliamo di un paese cuscinetto fate conto è come se qualcuno proponesse che in Messico ci fossero le postazioni militari di paesi o di organizzazioni che sono nemiche degli Stati Uniti puntate verso gli Stati Uniti non so se vi rendete conto di quello che potrebbe accadere è già successo se ne hanno conto hanno fatto un approfondimento sulla crisi dei missili pubana è la loro materia direi proprio una riedizione nessuno la augura quella riedizione di rischio mondiale però quello che è accaduto che i piani di azione Nato hanno voluto fare che poi hanno realmente fatto è stato questo e poi alcuni numeri veramente mi taccio Allora nel 2013 2014 ci sono stati i moti di piazza in Ucraina da quel momento in poi l'Ucraina è entrata sempre a far parte di più della sfera di egemonia occidentale specialmente statunitense una prova un indizio di questo il capo del di castello delle finanze di Kiev Nathalie Gialesco che è stata dal dicembre del 2014 all'apreo del 2016 a capo di questo di castello delle finanze era fino al giorno prima della sua nomina cittadina statunitense e aveva servito il dipartimento degli Stati Uniti ed è stata necessaria una delibera del Parlamento ucraino per darle la cittadinanza ucraina perché c'era una legge in Ucraina che impediva di assegnare ruoli governativi a cittadini non ucraini questo penso la dice lunga non è ovviamente l'unico indizio ora naturalmente c'è stata anche l'annessione della Crimea da parte della Russia nel febbraio del 2014 dopo quell'area fu con un referendum mannessa ci furono alcuni feriti ci furono sei morti quell'occupazione generò questo come dato poi ognuno tira fuori protocollo di Minsk è l'accordo che dopo questa occupazione della Crimea si tentò di far approvare di fatto fu approvato ma solo in alcuni ambiti internazionali ma non dal governo ucraino che cosa prevedeva cessate il fuoco scambio dei prigionieri e l'impegno da parte dell'Ucraina di garantire maggiori poteri alle regioni del Nondesk e del Lungask le regioni che conoscete che ora sono sotto l'occupazione dal 24 febbraio in poi e qui e si possiamo andare avanti Minsk non è stata attuata non solo dall'attuale Zelensky ma anche dal suo vero recessore la firma doveva essere ratificata dal Parlamento e quindi bisognava portarla al Parlamento proprio perché l'Ucraina ha chiesto di rivedere una parte degli accordi con la Russia successivamente però alla firma non l'ha mai portata al Parlamento e quindi non è stata mai ratificata dal Parlamento ucraino questo sia Minsk 1 che Minsk 2 Minsk 1 era generico e Minsk 2 era proprio con i punti dettagliati dell'accordo di pace e ci sono stati molti presse dell'Ucraina poi per chi vuole approfondire ci sono i numeri una cosa veramente molto piccola quando si crea una dipendenza finanziaria di un paese nei confronti di un paese estero oppure di una istituzione internazionale molto particolare come il Fondo Monetario Internazionale che come abbiamo anche accennato ieri ha al suo interno una composizione tale per cui alcuni paesi pensano di più di altri in particolar modo il paese che pensa di più degli altri sono gli Stati Uniti beh questo crea anche delle ingerenze sul piano della politica e la storia dell'Ucraina ci può aiutare a formulare un'ipotesi che è un po' fastidiosa da formulare ma queste ingerenze riguardano non solo la politica economica o anche la politica estera e le relazioni internazionali la lascio come domanda cosa è accaduto prima del 24 febbraio 2022 a seguito di questi prestiti del Fondo Monetario Internazionale direttamente dagli Stati Uniti e anche dall'Unione Europea è iniziato il conflitto sociale io lo definisco così per farvi così per provocarvi su una questione fondamentale il conflitto inizia il 24 febbraio dal punto di vista sociale per me no e questi sono i dati prezzi del gas aumentati al 50% deregolamentazione del vasto settore agricolo l'Ucraina è un settore potante un clima pro imprese cioè aiutiamo le imprese dal punto di vista fiscale contributive e così via il salario minimo legale era indicizzato e da quel momento non lo è stato più accordo limitato l'accesso ai sindacati e poi c'è un blocco al numero massimo di ore di straordinario che si potrebbe fare ecco ancora avanti questo è piuttosto interessante quando inizia il conflitto vi ha addirittura un monitoraggio dei lavoratori ucraini con un sistema di telecamere questo giusto per darvi un'idea della rilevanza che questo processo di normalizzazione della guerra su cui abbiamo provato a riflettere anche noi conduce insomma in un territorio molto importante questo è il licenziamento naturalmente c'è stata anche la riduzione dei contributi familiari parlo tutto prima del 24 febbraio riduzione delle pensioni licenziamento di circa 50.000 medici chiusura di 332 ospedali e tentativi di privatizzazione di 3.000 enti statali perché il fondo monetario di un'europea presta ma con delle condizionalità ecco quindi che cosa è accaduto è accaduto che certamente la resistenza interna politica prima del 24 febbraio che pur in maniera residuale esisteva ha smorzato alcune di queste misure ma lo stato di emergenza seguito poi del 24 febbraio del 2022 ha marginalizzato ogni opposizione se voi siete sicuramente studiosi della materia potremmo fare una ricerca e poi mi direte se esiste il nome di un politico ucraino che in questo momento può essere citato e che il cui nome non inizia con la z provate a cercarlo quindi una opposizione marginalizzazione di ogni forma appunto di opposizione politica un'accelerazione di processi neoliberisti e quindi provvedimenti molto dolorosi soprattutto confidando sullo stato mentale questo dallo stato di emergenza dovuto alla guerra è shock siamo in un sistema di shock e poi ci sono state naturalmente le leggi marziali e quindi dove si trova ora l'Ucraina spogliazione delle sue risorse debito pubblico estero galoppante anche perché questi prestiti costituiscono debito vanno restituiti caduta verticale dell'economia nazionale abbiamo detto prima 34% meno del PIL distruzione di importanti infrastrutture naturalmente questo a causa della Russia il governo sopravvive solo grazie aiuto eccedentale non ci sarebbe neanche i soldi per pagare gli stipendi a impiegati statali senza la propria sovranità ovviamente l'Ucraina non può opporsi alle pressanti richieste dei propri interessati protettori nel momento in cui un presidente che è eletto che ora svolge questo ruolo dell'Ucraina dice che non vuole negoziare che non vuole diciamo così che vuole andare avanti che vuole continuare nell'invio delle armi nella ricezione delle armi da parte di tutto il resto del mondo che vuole continuare quindi su questa ipotetica ma insomma anche reale distruzione del suo territorio morte dei suoi abitanti certo non a causa sua ma a causa dell'occupazione russa ecco però nel momento in cui questo accade c'è da chiedersi come era insita nella domanda prima del professore Lucarelli come può l'Ucraina in questo stato che avete visto dire di no alle pressanti richieste degli stati esteri che hanno anche prestato dei soldi quindi hanno anche in qualche modo condizionato e appunto con le ingerenze e quindi chi comanda in Ucraina e va bene quindi ora inizia un'altra parte che io vi eviterò e poi se tra le domande ci sarà quella che mi aspetto ci sono 3-4 slide che vi mostrerò con il vostro vero interesse vogliamo fare un giro di domande oppure passiamo la parola a Rosetta adesso come vuoi prego a voi la parola mentre magari ci pensate ho una domanda che è arrivata da casa che ci chiede Carlo Aglioni ci chiede questo anzi ti chiede quanto ha inciso e incide la crisi delle istituzioni multilaterali si riferisce all'ONU e ad altre strutture istituzionali in cui lui cita anche il fondo monetario internazionale sulla genesi e sulla evoluzione di questa situazione di conflitto sì allora la slide che non vi volevo presentare ora ve la devo presentare ed è una delle successive eccolo qua successiva ancora eccolo qua questa è la ok intanto il titolo ho già una prima risposta perché dal tuo punto di vista il fondo monetario non è in crisi ma è più forte è molto più forte allora il fondo monetario internazionale è diventato fortissimo cosa è accaduto per decenni nei paesi del sud la questione del debito in qualche modo è servita come pretesto per applicare politiche di aggiustamento strutturale che sono opposte a quelle che sono i bisogni delle popolazioni nell'anno 2023 però è stato battuto ogni record per il maggior numero di aggiustamenti fiscali che la condizionalità che richiede il fondo monetario internazionale cioè il fondo monetario internazionale secondo Eric Toussaint che è il presidente di CADETEM International il comitato per l'abolizione dei debiti illegittimi lui dice che il fondo monetario è all'offensiva in tutti i paesi negli ultimi tre anni ha concesso oltre 100 prestiti a numerosi paesi profittando della pandemia e più recentemente anche degli effetti economici della guerra in Ucraina crisi alimentare che cosa consiste? programmi di privatizzazione naturalmente e programmi di riduzione dei diritti dei lavoratori quindi se alla ricerca del professor Rucarelli aggiungiamo anche questo elemento questa maggiore presenza del fondo monetario internazionale e la maggiore presenza dei piani di azione NATO unitamente alle posizioni nette con l'estero siamo squilibrate che però generano da parte di tutti i paesi un incremento alla spesa per armamenti ne viene fuori un quadro assolutamente destabilizzante quindi se la domanda era qual era il ruolo del fondo monetario internazionale e se ritieni che questo abbia influito negativamente io dico assolutamente sì l'ONU è un capitolo a parte però forse no dico tu no il ruolo dell'ONU è iniziato dal suo regolamento interno quindi l'ONU è un'opportunità grandissima è una realtà da difendere a tutti i costi ma da migliorare nel senso che allo stato attuale appunto vive di stalli frequenti dovuti al regolamento interno che risente di quello che è accaduto alla seconda guerra mondiale di come i veti contrapposti possono ancora influire nel consiglio di sicurezza questo mi sento di giro grazie ci sono alcuni interventi da parte vostra a questo punto prego prego diciamo pensare a post guerra in cui il paese ritenga diciamo una certa superità nazionale quindi praticamente casi molto più probabilmente sono caso A si lega molto probabilmente al paese di Nath al paese occidentale diciamo caso B diventa parte della Russia o direttamente quindi perdo un attimo che intanto sintetizzo questa prima parte della domanda a chi a casa che se no non sente lo studente ha chiesto un parere su due possibili scenari che lui ritiene diciamo quelli più probabili in cui si troverebbe sospesa l'Ucraina o come dire mantenersi saldamente legata alla Nato o accettare di ritornare in qualche modo all'uvile e quindi sotto un'influenza russa continuo con il tuo ragionamento volevo chiedere semplicemente secondo lei per più che per lo Stato ucraino ucraino più per il popolo per le persone ucraino cosa sarebbe meglio qualcosa o quali è il caso per le condizioni di vita proprio di cambio e la domanda è cosa sarebbe meglio per il popolo ucraino di fronte ad una situazione così sconcertante sia nel primo che nel secondo scena sì allora l'economia russa e l'economia ucraina sono a vario titolo possiamo considerarli specialmente quella russa come un'economia infelice i dati sulla povertà sul reddito o pro capite non sono così elevati ancora di meno in Ucraina anche se in Russia c'è un maggior numero di poveri quindi quando parliamo di guerre in queste situazioni stiamo parlando di popolazioni o di strati di popolazione sacrificate alla guerra al dio della guerra che genera come vi ho detto devastazioni e molti profitti solo da parte di alcuni per liberare l'Ucraina in questo momento vengo la tua domanda preferirebbe liberarla dalla Russia dalla Nato e dal Fondo Monetario Internazionale se il popolo quindi volesse davvero sentirsi libero e acquisire una nuova sovranità dovrebbero essere attivati questi processi per far questo potrebbe essere necessario un negoziato subito un negoziato che aprirebbe un processo diverso alternativo che sarà frutto della contrapposizione delle parti che indubbiamente all'inizio saranno sempre più molto contrapposte e poi sempre meno contrapposte mi auguro un negoziato che però determina anche con chiarezza chi paga i debiti in Ucraina chi paga la devastazione ambientale e strutturale e sicuramente nel negoziato ci deve essere un concorso perché il rischio è che noi come Europa ci addossiamo tutto il debito e tutto tutto il danno anche economico di ciò che è accaduto in Ucraina e questo sarebbe la tempesta perfetta per gli Stati Uniti che ha coraggiato questa guerra l'ha determinata in qualche modo ha prestato denaro ha armi ha guadagnato fornendo il proprio gas al posto di quello russo e ora abbandona la Russia in qualche modo l'Ucraina e la lascia nelle braccia dell'Europa la quale però dovrà accogliere anche il debito e questo significa avere una voragine nel bilancio europeo e questo significa che inciderà concretamente sul futuro di tutti i paesi si avevamo alcuni di questi dati prima non è molto elevato in valore assoluto no sopra sì perché questi sono questi sono i prestiti che ha ricevuto l'Ucraina questa è una cifra che si avvicina a questa di 50 miliardi e sopra ancora 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 sopra sì sì ancora allora ancora eccoli qua questi sono gli aiuti che ha ricevuto l'Ucraina dal 2014 dal 2016 quindi esistono già 17 miliardi poi il 18 dicembre 2018 ulteriori poi ancora 17 miliardi dall'Unione Europea però ci sono questi massiccio finanziamento da parte degli Stati Uniti insomma parliamo non di un debito eccessivo in termini di valore assoluto ma tale da impensierire moltissimo il bilancio europeo il quale non è poi così vigente come 50 miliardi sono miei no nel senso se uno se la vogliono risolvere la risolvono non è un problema cioè credo che abbiamo già avuto l'esperienza di questo per pagare i debiti poi ci sono però poi ci vorranno misurato 350 400 miliardi per la ricostruzione questa è la fetta prova a vedere questo dato perché è la fetta che Confindustria è la fetta che no 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 non di fidare perché mi potrei sbagliare però la fetta che le varie Confindustria europee mirano ad acquisire per la ricostruzione dell'Ucraina è molto elevata parliamo di ricostruzione di infrastrutture di case dai fai un fast check tu mi intanto mi chiederebbe se lo metto in testo può fare tutto è una cifra elevata quindi tant'è vero che la Confindustria persino quella italiana ha già riunito i suoi stati maggiori in Italia ha fatto un incontro anche lì in Ucraina e tante Confindustria europee sono come a Poltoi diciamo sbagliando i tempi ovviamente perché di lì a poco doveva iniziare la ricostruzione cosa che ovviamente non può avvenire con una guerra in corso ecco quindi insomma stiamo parlando ma secondo me ecco quella ci tengo a sottolineare la tempesta perfetta della politica estera statunitense che ha guadagnato tutto su questo conflitto e ci lascia il conflitto in Europa e ci ha reso nemici di un popolo comunque sì le stime che ho trovato immediatamente il costo totale della ripostruzione della ripresa in Ucraina è stimato a 486 miliardi di dollari e quindi è una bella questa sì che è una molto appetibile è una bella festa 50 miliardi di debito non fa un po' 500 miliardi neanche mia generation è lui a quei soldi ecco per capire sì quindi questi 486 miliardi non potranno essere prestati soli solo ma dovranno essere in qualche modo anche frutto di una joint venture con società private grandi corporation e questo significherà che dalla ricostruzione l'Ucraina resterà sempre più ingabbiata in questo processo di privatizzazione chiedo a Rosetta di sedersi al posto di Antonio e diciamo in quella che il Papa ha definito una guerra mondiale a pezzetti adesso cambiamo pezzetto i collegamenti fra questi scenari esistono in parte li abbiamo già accennati e continueremo a parlarne però adesso andiamo un po' a fare un focus sulla Palestina io ci tengo a dire che sia Antonio che Rosetta sono stati recentemente in Palestina prima del 7 ottobre e quindi parte delle immagini che vedrete sono state proprio raccolte in diretta da loro ti cedo la parola questa mattina prima di venire qua mi è venuta un'immagine che io ho vissuto due momenti importanti nella mia vita uno in Perù quando nel 91 sono stata nominata per insegnare a Lima e lì nel 92 è stato un anno molto duro perché la guerriglia era in città e quindi c'erano imprevedibilmente degli attentati dovunque un collega gli è scoppiata la casa e per caso si è salvato lui e la famiglia non mi dico altro di questa cosa qua poi in Palestina e Palestina si è aperto certo sapevo tante cose sulla Palestina ma poi quello che effettivamente si è vista la discriminazione che diciamo si declina su tutti gli aspetti della vita mi ha lasciato senza parole e mi ha impegnato in questa in queste presentazioni in questo libro perché bisogna come dire non solo fare l'analisi delle situazioni economiche mondiali politiche tutto quello che volete ma bisogna anche costruire un nuovo pensiero e nuove metodiche non possiamo continuare a secondo me ad analizzare e poi invece allora cosa facciamo e poi mi dispiacerebbe moltissimo che un giorno qualcuno mi metta un elmetto sulla testa e gli dica adesso vai a sparare a qualcun altro un giovane come te questo sarebbe proprio la fine di un'epoca quello che partì dalla mia gioventù ad oggi in cui il militarismo man mano aveva perso ordente aveva perso funzioni cosa succedeva in scuola mia in Perù ogni lunedì mattina c'era l'alza bandiera l'inno nazionale peruviano l'inno nazionale italiano io non lo conoscevo l'inno nazionale italiano ho imparato lì al forza di sentirlo ogni lunedì ho imparato sto inno per noi in quel momento né la bandiera né l'inno era un fattore identitario a oggi invece lo sta diventando sempre di più ho cominciato con la bandiera durante le partite di calcio e altre cose di questo genere oggi come oggi le troviamo perpagliate in tutte in tante situazioni in tante case e poi l'inno sempre dallo sport poi man mano ma non solo si sta militarizzando anche la scuola gioia del colle esercitazione militare ai bambini in piazza con una bambina di 5 anni con un giubbetto antiproiettile ragazzi ma stiamo scherzando scusate se sono un po' enfatico sono molto arrabbiata su questo punto la scuola come si dice alternanza scuola lavoro fatta nelle basi militari perché mi stanno facendo questa cosa e poi tutto passa così sotto silenzio quasi Antonio Mazzeo che ha scritto un capitolo in questo libro ha cominciato a studiare a denunciare tutta questa situazione che stava succedendo anche nell'università ci sono appunto la Leonardo che finanzia studi finanzia l'università per cui certe cose non si possono dire quindi è nato un osservatorio contro la militarizzazione della scuola l'altro dettaglio e poi passo alla Palestina l'anno scorso la Giochi Preziosi che è una ditta che fa zainetti e così ha tirato fuori tre zainetti ispirati alle forze militari la Folgore gli Alpini e non mi ricordo che altro c'è stata la protesta da parte appunto all'osservatorio di tanti insegnanti però c'era tanto di manifesto per essere sempre in azione in missione per essere sempre in missione con tutti i gadget così cioè quando un bambino piccolo o un giovane gli normalizzi questa situazione ce lo mandi in guerra è già pronto cioè non ha quello spirito critico che può avere chi invece non ha vissuto quella situazione allora Palestina secondo viaggio in Palestina e là troviamo un esperimento estremo secondo me e non so secondo me che messe eravate noi siamo andati nel due anni fa ad agosto i due anni fa esatto quindi non c'eravamo scordati che esisteva la questione palestinese quando io ero giovane come voi se ne parlavano molto di più c'era tutta una serie di interventi in questo poi man mano man mano c'era il boccottaggio per essere contro Israele poi man mano questa cosa è sparita totalmente fino al 7 ottobre qui è riesplosa come sta esplodendo allora Palestina brevemente sapete che ci sono tre territori Gaza questa piccola strisciolina una piccola strisciolina poi la rivedremo qui Cisdordania e Israele perché c'è questa immagine di una fetta di cocomero perché i palestinesi non possono esporre la bandiera palestinese essendo un reato penale andiamo avanti questo è un po' l'indice di quello che tratterò quindi i territori le cinque leggi di discriminazione più importanti documenti di identità con il numero di crescenti diritti la demografia in Israele Cisdordania e Gaza e gli strumenti dell'occupazione la separazione la discriminazione esempi di resistenza non violenta perché sono incredibili ma ci sono e poi l'economia di guerra come si declina velocemente non so se sapete Israele è stata un'invenzione dei paesi europei che dopo la guerra la Shoah eccetera hanno deciso di restituire un territorio agli ebrei e tracciando su una carta geografica una linea hanno detto questa sarà lo Stato di Israele senza andare a chiedere agli abitanti che c'erano se erano d'accordo e in qual misura quindi ci troviamo nel 1948 praticamente la programmazione dello Stato di Israele da parte degli ebrei e la cacciata la Nakba la cacciata di tutti gli abitanti o di molti abitanti che stavano in quei territori che attualmente si trovano dove in Libano in Siria in Giordania nella Cisgiordania nei campi di rifugiati e nella striscia di Gaza e vediamo avanti allora striscia di Gaza una strisciolina molto piccola lunga 40 km e larga al massimo 10-12 km o 6 km circondata da un muro totalmente impenetrabile anche il mare non è libero velocemente se fosse la striscia di Gaza stesse qui nel nostro territorio andrebbe da Bergamo fino a Spedaletto neanche fino a Brescia e da Bergamo a Brembate oppure a Castelzano questo gli accorsi sono stati degli accordi di Oslo che ce l'hanno venduto come gli accordi della pacificazione quindi avremmo risolto il problema palestinese in effetti non è stato così è stato un accordo truffa permettetemi perché che il mare è stato costituito il muro questi non potevano uscire né andare in Israele né andare in Egitto ma anche il mare non poteva essere utilizzato dai palestinesi se non una piccola fetta che può essere sempre più ristretta perché Israele ha un blocco navale di fronte a quella striscia e anche l'aereo non possono partire né arrivare cosa scopriamo davanti alla striscia di grazia ci sono i depositi di gas il 29 ottobre 2003 Israele del 2023 grazie Israele ha firmato mentre bombardava la striscia di gas ha firmato con Leni e altre compagnie la ricerca del gas nella striscia antistante Gaza questa è una foto presa durante il viaggio per dare un'idea di come è la situazione la città che vedete sul fondo è una colonia israeliana le colonie ce ne sono tante tutte sulle colline e uno dice la colonia potrebbe pensare dice sono dieci persone cento persone che sono messi là e sono andate a costruire più o meno abusivamente delle case lì no è Israele che va e costruisce città villaggi in Cisordania andiamo avanti dunque qua velocemente vediamo che cosa è successo con i accordi di Oslo la Cisordania viene divisa in tre aree qui l'area A quella in viola che è il 18% del territorio viene lasciato ai palestinesi corrispondono più o meno alle città palestinesi e qui il controllo amministrativo palestinese anche la giustizia palestinese per quanto riguarda la popolazione araba ma se un israeliano attraversa questo territorio e commette un qualsiasi reato non può essere arrestato processato dai palestinesi ma viene restituito alle autorità israeliane potete capire le conseguenze di questo fatto la zona invece B che è il 22% del territorio ha un controllo civile palestinese e militare israeliano e poi c'è l'area C quella in verde che vedete il 60% del territorio ha un controllo totale militare israeliano qui vediamo una foto non bellissima però c'è un'autostrada un'autostrada circondata da un muro da una parte e anche dall'altra queste autostrade sono un'autostrada riservata soltanto ai coloni agli israeliani i palestinesi non possono passare lì collegano le varie colonie israeli colonie israeliane con israele e viceversa si chiamano bypass come si riconosce se una macchina è palestinese o israeliana dalla targa dal colore della targa se è gialla può passare dappertutto perché è israeliana se è verde oppure bianca qui non ho la foto della bianca è palestinese quindi potrà passare solo nelle strade riservate ai palestinesi gialla israeliana si è verde gialla bianca e verde no no gialla israeliana verde o bianca palestinese e qui ho faticato un po' a trovare questa immagine di vedere quali sono le strade che attraversano Cisjordania Cisjordania rendetevi conto è un territorio grande come la provincia di Brescia piccolissimo le autostrade sono quelle bianche e vedete ci sono autostrade che vanno da nord a sud e poi tutte quelle che intersecano da est a ovest il territorio e collegano ripeto Israele alle colonie e ai territori quelle rosse sono invece riservate ai palestinesi ma alcune zone delle strade palestinesi sono state inglobate nelle autostrade riservate agli israeliani e qui là si sono interrotte loro non possono passare oltre in alcune zone è stato fatto un sottopasso in molte altre hanno deciso che forse le faranno chissà quando vabbè poi c'erano le colonie le zone blu sono le colonie dunque negli accordi di Oslo era stata stabilita una linea verde che doveva dividere nel confine tra Cisjordania e Israele Israele dal 2002 ha cominciato a costruire un muro che non ripercorre la linea verde ma entra dentro come vediamo qui praticamente circonda le gran parte delle colonie escludendo e limitando la circolazione e anche la coltivazione di terre che erano dei palestinesi qui vediamo l'immagine del muro dove vi faccio notare che oltre alla torretta di avvistamento qui c'è un'arma che può sparare anche a dare moto andiamo avanti che c'è l'applicazione dell'intelligenza artificiale chiaro ci tenevo a segnalare che dal punto di vista della ricerca scientifica le università israeliane sono le più avanzate per quanto riguarda l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla produzione bellica certo qui abbiamo un'altra immagine un hotel realizzato da Bansky forse lo conoscerete come artista di fronte al muro sul quale ha dipinto questa immagine di Gerusalemme che se non ci fosse il muro si potrebbe vedere il checkpoint allora questo che vedete come immagine sembrerebbe l'indesso di un'autostrada no non è l'indesso di un'autostrada ma è un punto dove tutte le macchine si devono fermare vengono guardati i documenti i militari israeliani possono decidere di non far passare un palestinese trattenerlo anche per futili motivi o anche senza motivo lì parcheggiato e niente da fare ci sono in totale 645 ostacoli alla circolazione quindi immaginate provincia di Prescia tutte queste frammentazioni costanti tante persone per esempio donne che non hanno potuto raggiungere gli ospedali hanno partorito per strada sono morte lo stesso gente che aveva bisogno di cure non è riuscito in tempo ad attraversare questi checkpoint e quindi mi ha perso la vita questa è una situazione non di guerra non stiamo a Gaza andiamo avanti esistono 65 leggi che discriminano i palestinesi da non ebrei ne vediamo 5 e più importanti andiamo avanti allora la legge della cittadinanza di ingresso in Israele allora sono israeliani solo gli ebrei si può diventare israeliani tornando da qualsiasi parte del mondo essendo ebrei o convertendosi all'ebraismo tranne se viene da Giordania Libano Siria Cisjordania la legge è stata un'azione nel 2018 la Cnesset del Parlamento israeliano approva questa legge e dichiara che il Stato israeliano è del popolo ebreo e basta i 2 milioni di abitanti con passaporto israeliano che sono palestinesi perché c'è un 2 milioni che vivono nel territorio israeliano non nei territori occupati perché non sono fuggiti nel momento del 48 quando c'è stata la grande catastrofe questi cittadini sono cittadini israeli e B perché poi ci dicono Israele è l'unica democrazia del Medio Oriente la faccia è bicarbonato scusate il termine qui abbiamo una lista di la discriminazione si declina anche con il tipo di documento che uno ha a seconda di dove vive ce ne sono 5 licenti andiamo avanti allora il colore della copertina del documento fa parte del documento non è che non ci può mettere un'altra copertina perché il sistema israeliano uno deve essere totalmente identificabile immediatamente quindi gli israeliani ebrei hanno un documento blu intenso possono vivere in Israele nel 60% del territorio occupato in Cisjordania votano per il Parlamento poi ci sono gli israeliani palestinesi con i 2 milioni di cui vi dicevo che possono vivere in Israele ma non su tutto il territorio israeliano per una serie di leggi amministrative in alcune città non possono vivere quindi devono stare dove votano hanno diritto di voto però i loro rappresentanti dentro il Parlamento se contrastano alcune leggi fondamentali israeli vengono allontanati poi esistono i residenti Gerusalemme Est che hanno meno diritti degli palestinesi israeliani ma stanno già un pochino meglio degli altri Cisjordania e Gaza non hanno diritto di voto però possono perdere questa loro condizione se vanno via da Gerusalemme anche semplicemente per studio allora poi i generi palestinesi in Cisjordania hanno il permesso di vivere nel 40% della Cisjordania non hanno diritto di voto e hanno una situazione di controllo da parte dei militari israeliani la fascia di Gaza devono vivere fuori da Gaza quindi una prigione a cielo aperto dal 2007 poi vedremo però che esiste una storia strana tra quelli che possono andare a lavorare fuori e poi ci sono gli esiliati cioè gli esiliati altrove dopo il 48 dunque la demografia 9 milioni e mezzo sono gli abitanti di residenti in Israele 7 milioni 690 mila sono ebrei voglio sottolineare che molti di questi abitanti hanno la doppia nazionalità possono essere statunitensi possono essere anche francesi anche italiani o anche ingeresi poi ci sono 2 milioni di arabi e circa mezzo milione di altre appartenenze etniche Cisgiordania abbiamo 2 milioni e 300 mila abitanti di cui ci sono 19 campi profughi 871 mila che vivono da profughi nella striscia di Gaza e poi ci sono 630 mila quindi non ho riportato che sono i poloni nella striscia di Gaza c'erano 2 milioni e 200 mila persone sempre in quella strisciolina piccola che vi ho fatto vedere prima è interessante notare che la somma della popolazione araba in Israele nella striscia di Gaza in Cisgiordania a quel punto se vista in questo modo equivale esattamente ai cittadini ebrei probabilmente per questo motivo è una divisione funzionale anche a ragioni amministrative e politiche infatti c'è chi sostiene che i territori occupati c'è stata una guerra nel 67 Israele ha occupato la Cisjordania diciamo l'ha conquistata conquistato Gaza ma quei cittadini quegli abitanti là non sono diventati cittadini israeliani molto probabilmente perché altrimenti la sua popolazione era paritaria tra arabi e israeliani e ebrei per cui tengono il sistema di apartheid riconoscere il diritto di voto per partecipare alla vita politica dello Stato di Israele genererebbe quindi anche una partecipazione alle decisioni politiche in una modalità piena e invece in questo momento le ragioni degli arabi sono come dire rappresentate da all'interno di quei territori che però sono divisi tra di loro poi dialoga col governo di Israele senza che siano governi paritari esatto totalmente squilibrata la situazione andiamo avanti qui troviamo la situazione Ebron Ebron è una città particolarmente castigata perché la zona centrale è stata svuotata totalmente da cittadini e attività economiche chiusa e presidiata dai militari israeliani possono accedere attraverso il checkpoint questo qua soltanto i cittadini non israeliani ma non ci passa nessuno perché ci passa giusto qua che è turista qualcuno che come noi siamo andati a vedere perché ci hanno fatto vedere questo disastro in questa città ci sono 80 ostacoli di cui 28 posti di blocco immaginate Bergamo ci sono 80 possibili deve essere controllato non puoi passare oltre 28 sono posti di blocco con tanto di riconoscimento facciale e quant'altro per controllo documenti rispingimenti eccetera non solo questo ma anche nelle zone che sono rimaste ai cittadini palestinesi i piani alti sono stati occupati dagli ebrei i quali coloni ebrei i quali buttano di tutto sotto per cui i palestinesi hanno costruito delle griglie metalliche per impedire di essere colpiti da oggetti e spazzatura che viene lanciata e questa diciamo alcune sono coperte da una plastica c'è questa qua invece la copertura se ne è andata andiamo avanti questa foto che sembra una foto molto anonima non esprime molto però esprime una situazione c'è una colonia degli ebrei ebraica e poi c'è una coltivazione intensiva da parte dei coloni sono aree totalmente interdette ai palestinesi circondate da rete metallica filo spinato e poi vedremo che cosa succede perché è possibile queste coltivazioni ma diciamo una zona semidesertica ecco qua proprio una foto dal nostro gruppo e abbiamo in fondo una colonia qui una zona coltivata dai coloni qui niente e qui c'è un bosco di pini faceva un caldo terribile ho detto ma scuso perché non ci spostiamo un po' più in là andiamo all'ombra dei pini no ci può andare perché dove vengono piantati i pini sono zone off limits per i non ebrei perché il pino è simbolico degli ebrei quindi l'hanno piantati e l'hanno cipare questa è una delle resistenze non non armate da parte dei palenzinesi i quali Battir è una cittadina famosa fin dai romani per la coltivazione delle melanzane e hanno una struttura di irrigazione per le terrazze molto particolari per cui sono riusciti documentando tutto questo intervento sull'acqua ad avere lo status di patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO e questo ha impedito agli israeliani di costruire un muro che avrebbe diciamo separato la città dalle coltivazioni e dalla possibilità di mandare in altre zone i propri prodotti ok attenzione questa slide che sembra di niente ma attenzione come il meccanismo di depredazione si attua qui sono riportate diciamo le falde acquifere di israele palestinese c'è la falda acquifera costiera questa e la falda acquifera che attraversa la Cisordania voi direste vabbè allora i palestinesi hanno l'acqua il problema c'è il problema è che esiste la Mekorot che è una compagnia israeliana che controlla le sorgenti e la distribuzione dell'acqua per cui i palestinesi non possono neanche scavare un pozzo per captare l'acqua nelle proprie falda non solo la Mekorot diciamo controlla tutto l'acquifero ma settore in settore in ma distribuisce in maniera diseguale la quantità di acqua a seconda se uno ebreo israeliano ha a disposizione di 200 litri al giorno se invece un palestinese è la Cisordania 85 se un palestinese di Gaza era di 70 litri al giorno lo standard dell'organizzazione mondiale della sanità sarebbe di 100 minimo vitale ma non solo la Mekorot vende agli israeliani l'acqua a 0,3 shekel 30 centesimi di shekel e ai palestinesi quasi a 3 shekel quindi 30 centesimi 300 centesimi contravenendo anche una legge di mercato perché chiaramente tu lo vendi a chi? a chi ti fa guadagnare di più? no qui siamo al contrario non solo non possono scavare pozzi ma addirittura non possono neanche raccogliere l'acqua piovana questo è un un invaso che era fatto artigianalmente viene distrutto oppure vengono sottratti i serbatoi dell'acqua incredibile ma vero eh i palestinesi comunque devono pure vivere e dar da mangiare le proprie famiglie per cui moltissimi si calca 120.000 lavoratori palestinesi ogni giorno si decano in Israele oppure negli insediamenti israeliani per lavorare in agricoltura nei cantieri facendo i lavori più umili essendo pagati peggio di tutti gli altri anche dalla striscia di Gaza uscivano ogni giorno dai 18 ai 20.000 lavoratori per andare a lavorare in Israele l'occupazione israeliana della Palestina che cosa comporta? una serie di pratiche di estrazione e appropriazione delle risorse palestinesi che impedisce qualsiasi forma di cambiamento strutturale produttivo qualche settimana fa parlando così con una persona mi ha detto eh vabbè i palestinesi stanno là non sarebbero riusciti neanche a pascolare le capre gli israeliani hanno fatto reso produttiva il territorio peccato che le cose stanno diversamente perché se non hai l'acqua cosa fai? l'acqua viene drenata dai coloni israeliani da Israele quindi per le loro coltivazioni intensive che poi esportano i famosi datterin che noi troviamo nei supermercati e se sono israeliani vengono dalla zona della Cisdordania quindi c'è un'espropriazione un'occupazione dei terreni da parte coloni israeliani progressiva perché non riconoscono le autorità israeliane non riconoscono i diritti di proprietà dei palestinesi quindi non avendo un documento di proprietà valido per gli israeliani possono le case possono essere distrutte in qualsiasi momento e hanno la proibizione di sostituire noi siamo andati in un villaggio beduino e il capo villaggio ci ha detto non posso sostituire neanche questo palo che vedete qua più c'è la subordinazione dell'economia palestinese al mercato israeliano in ambito di commercio e di lavoro quindi israele decide praticamente le condizioni del lavoro e del commercio in più la moneta utilizzata sia a Gaza che a Cisjordania è lo sheker israeliano quindi israele diciamo al controllo monetario raccoglie l'IVA non la ridà indietro e quindi anche là a questo si aggiunge non so perché non si vede però siamo qui no 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 ma qui comunque ci sono le informazioni relativi ai costi dell'anno perché oltre al servizio militare a tutta l'apparato militare ci sono che costituisce il 6 ed 8 per cento del PIL che israele spende 15 miliardi di dollari all'anno per le spese militari la Finlandia che è un paese simile per PIL ne spende in media 4 miliardi praticamente 1% del PIL a questo si aggiungono i costi delle colonie perché le colonie devono essere costruite ci devi portare la strada ci devi portare l'acquedotto dei servizi inter e più la sorveglianza e più chi è che ci va a vivere in quei posti perché ragazzi c'è ci vanno a vivere ebrei che vengono da altre parti e quindi vengono stipendiati sussidiati in maniera che vivano là soprattutto nei villaggi più piccoli che veramente sono delle piccole prigioni magari dorate con tutti i servizi tutto là però di fatto sei così c'è un'attenta come dire gestione degli equilibri demografici di modo tale che sia sempre presente una una componente di cittadinanza israeliana e di coloni proprio per poi incidere in quelle che sono le decisioni politiche di quelle zone e questo mi può se vi può interessare studiare un po' di più questa situazione Ilan Pappé che è uno storico israeliano che ha scritto un libro vari libri sulla questione e dice questo è un tipo di colonialismo di insediamento la stessa cosa che hanno fatto gli abitanti i migranti negli Stati Uniti che hanno praticamente desertificato i nativi la stessa cosa è stata fatta in Australia c'è però gli israeliani sono fuori tempo massimo perché questo è avvenuto nei secoli scorsi oggi come oggi perpetrare un sistema simile ingiustificato da qualsiasi punto di vista secondo lui è destinato anche progressivamente a fallire perché sostiene addirittura se i sionisti fossero andati in un'isola deserta quel sistema non avrebbe funzionato ugualmente quindi sarebbe imploso sostiene anche che Israele è praticamente un territorio con l'esercito che non c'è un tessuto sociale unico sono molto frazionati frammentati questo momento nelle slide non ci sono perché sono preesistenti ci sono i ultraortodossi che sono esentati dal servizio militare servizio militare in Israele di tre anni obbligatorio e per le donne due gli ultraortodossi non fanno il servizio militare adesso nel Taniano gli ho detto beh insomma ragazzi bisogna cominciare a fare il servizio militare e questi assolutamente sono contrari perché secondo loro se hanno bisogno cioè se Dio vorrà dargli uno Stato glielo dà loro non devono combattere per averlo dunque qui abbiamo ovviamente la finanziarizzazione è un processo subito dalla Palestina i palestinesi all'estero che si sono arricchiti hanno tentato di costruire una città l'unica città che è stata costruita in Cisjordania a Rawabi questo Rawabi è una città che sembra più un centro commerciale che una vera e propria città è un tentativo è un tentativo però anche lì ci sono gli israeliani i palestinesi ricchi e i palestinesi poveri che non possono neanche comprare nessuna cosa in questo posto perché è per ricchi essenzialmente anche siamo alla fine se vi interessa vedere qualcosa in merito ci sono dei filmati uno è di Amnesty International perché in Israele esiste un sistema di apartheid le altre due sono molto simpatici perché infatti da un italiano che va in giro per il mondo e chiede che cos'è per te la felicità e va è una città il fantasma di Ebron e quindi un palestinese gli spiega un po' di cose e poi 48 ore con la comunità di ebrei ultra ortodossi in Israele guardatelo perché è carino e poi c'è un filmato di animazione sul muro di separazione vi fa vedere com'è questo è un bambino beduino nella comunità dove siamo andati loro non hanno scuole non hanno cioè veramente vivono in maniera molto molto primitiva e hanno chiesto alle suore comboniane che sono offerte di aiutarli in qualche maniera una scuola perché quello è l'elemento che può aiutarli ad acquisire degli strumenti una che posso dire empaticamente allora sono stati straordinari i palestinesi accoglienti i beduini che non c'erano veramente niente ci hanno offerto un pranzo semplice ma di riso e pollo accogliendoci così seduti per terra su tappeti però con una grossa voglia di vivere e di stare dedicati alle loro territorio dedicati alle loro pietre grazie prego la passione meno male se non avessimo le passioni bene io direi che se ci sono degli interventi possiamo fare dei ragionamenti anche più specifici coinvolgendo anche Antonio non so se Roberto vuole una suggestione però vieni qua almeno abito di ripetere a casa la dico come provocazione 500 miliardi 500 miliardi non ci pensa 500 miliardi per la costruzione io non so ho fatto ping pong e ho pensato 500 miliardi per posti da Mario Draghi per sostenere l'Europa così è proprio non so se c'è associazione però questa è proprio chiama la provocazione ma neanche tanto voglio dire però sollevo una serie di questioni una bella provocazione una delle più migliori vabbè ogni tanto come si dice lampi di genio non so se hai visto il film nel pianizzato questo mi fa pensare fermo nel senso che credo che non so se si sta preparando la guerra o meno è difficile immaginarlo fermo nel senso che la stupidità dell'umanità è grande quanto l'intelligenza mettiamola così perché abbiamo avuto Leonardo abbiamo avuto grandi lampi di genio come grandi lampi di stupidità dipende un po' da noi per far piegare una parte dall'altra perché io ho tanto il sospetto che quello che arriva in Ucraina per come l'è spiegata più di più credo che sia solo un esperimento sì ma sia un esperimento che in realtà non puntava verso est ma puntava verso ovest io ho questo grande sospetto e questo è un elemento mentre la cosa della Palestina in me io sono stato anche fortunato perché ad affatto l'ho conosciuto l'ho conosciuto quando lavoravo alla Camera dei Deputati per il ministro Nerionesi che è stato un uomo coraggioso ha conosciuto persone anche quando c'era in Spagna e onestamente è una persona cosa posso dire per bene ma onestamente era dura ma non è questo il punto dura nel senso che era un uomo provato sofferente quindi aveva riscrittuiva ciò che in qualche modo aveva provato è difficile che un volto di una persona riscrittuisca sempre quello che ha provato nella propria vita di solito si tende a mimetizzarsi lui proprio non mimetizzava niente cioè questa cosa mi aveva sempre colpito però è una sensazione tutta mia personale non è questa la cosa in realtà per quell'area lì dei palestinesi io ho un sospetto che dei kurdi non se ne frega nessuno direi palestinesi non gli interessa nessuno perché se no una soluzione sarebbe stata trovata ma abbiamo tutta una serie di aree come dire limitrofe di cui non si discute e non si parla la domanda mi faccio Israele che ruolo ha nel consenso internazionale perché a questo punto sebbene Israele è nata per caso è stata insediata i colpi dei cittadini europei sono grandi enormi più di quanto neanche non si riesce a immaginare questo senso di colpa purtroppo ce lo porteremo per n generazioni perché quello è stato un genocidio organizzato questo genocidio è stato non lo considero uguale ma per motivi proprio non lo vedo come uguale non vuol dire che è meno grave quindi mi domando a questo punto nella nuova geografia economica internazionale l'Ucraina cosa serve l'ho capita servono dieci anni per distruggere l'Europa questo è quello che penso io l'Ucraina è uno sperimento per condire è un cuscinetto non verso la Russia ma mi sembra un cuscinetto più che altro verso l'Europa o sud-est asiatico mentre la parte di Israele che ha a che fare con il canale di Suez tra l'altro in qualche modo molto prossimo mi sto domandando che cosa serva cioè ce la metto sul piano della geopolitica voglio dire perché così com'è forse non serve nemmeno a senedesimo voglio dire non riesco a catturare il suo ruolo nel consenso internazionale proprio mi sfugge proprio dal punto di vista geopolitico economico proprio non dal mentre non lo so non ne sto capire cosa posso dire io perché devo chiudere io secondo me per due motivi primo perché è in un luogo dove si concentra il petrolio mi torno quindi è una postazione osservazione e controllo di quell'area secondo il canale di Suez il canale di Suez controlli di commercio internazionale Europa Russia se non ci fosse Israele là sicuramente le potenze occidentali potrebbero influire così tanto come fanno adesso punto e questo è che non è sospetto di sì però è pure lucroceri quando uno pensa all'altra prima di dormire uno fa questi pensieri anche sui 500 miliardi mi è venuta così però erano pochi quei soldi ma io non avevo colto non sapevo dei 500 miliardi di costo per contribuirsi il debito non mi fa paura il capitalismo vive sul debito adesso quindi non sono mai stato spaventato per il debito mentre Giazzi è una suggestiva indicazione la tua questa di Draghi effettivamente è stata un'uscita che è un po' sparigliato ma che altri conoscevano e quindi si sono in qualche modo acquodati tra l'altro nei 500 miliardi ci sono almeno 70 previsti per la difesa comune europea o comunque ora è molto interessante invece una lettura che noi non diamo nel libro ma che potrebbe tranquillamente inserirsi in continuità con un libro che cresce anche di presentazione in presentazione questa tua dell'Ucraina cioè dell'esperimento neoliberista non tanto rivolto alla Russia quanto rivolto al resto all'Europa e che tu dici genererà nel giro anche di dieci anni una specie di dissolvimento dell'Europa in un'Europa così come la concepiamo e questa è una cosa molto interessante perché così come l'Europa ha condotto un esperimento estremo neoliberista in Grecia negli anni in cui la Grecia aveva ricevuto prestiti e poi non era stata in grado di restituirla così potrebbe potrebbero a questo punto in Stati Uniti utilizzare l'Ucraina come cavallo di Troia per dissolvere l'Europa è una lettura cioè la porto anche un po' più avanti la mia attesa è proprio quella che l'obiettivo non è la Russia ma è l'Europa è l'Europa ed è una lettura che ha dei riscontri che secondo me potrebbe essere proprio anche oggetto di un approfondimento ulteriore anche a livello accademico sono d'accordo fondamente d'accordo perché l'Europa e noi che viviamo in Europa non ci rendiamo conto l'Europa è l'unico posto al mondo dove c'è anche con tutte le questioni di una funzione una sanità pubblica una scuola pubblica che funziona un welfare un concetto del welfare pubblico cosa che non esiste negli Stati Uniti non esiste in America Latina non esiste in tanti altri posti del mondo questo è un patrimonio di cui non siamo coscienti e io vi dico perché vi faccio questa sottolineatura perché io ho vissuto in Peru in Peru in Peru le famiglie appena hanno un figlio cominciano a risparmiare perché devono pagare la scuola subito immediatamente l'investimento grossissimo sarà quello se non c'hai soldi mi dispiace andrai alla scuola pubblica ma alla scuola pubblica non impari niente nel 91 quando sono stata io lì i maestri hanno fatto gli insegnanti hanno fatto sciopero per sei mesi quindi la scuola non è stata aperta per sei mesi poi sono tornati a lavorare senza aver ottenuto niente purtroppo comunque la scuola è inesistente hai una tesi sai cosa penso più profondamente adesso poi dopo non lo sfiderò quando farò l'Europa all'Europa servono più di 500 miliardi per rigenerare se stessa nel mondo per fare un deficit modello del 26 ma se tu in qualche modo esogenamente impegni quella stessa area a investire almeno la metà del denaro per costruire un territorio vuol dire che tu tecnicamente indebolisci l'Europa strutturalmente la indebolisci dal punto di vista chiamiamole soci capiamo il paradigma tecno-economico e quindi sussumi l'Europa dentro di un mercato e senza permettere di permettere a questa nuova a quest'area di aprire il terreno neutro di interfaccia tra area dei BRICS e area degli USA questi 500 miliardi mi hanno fatto aprire però non so come scrivo o due scrivono ma è un po' troppo forte di detta così comunque vuole lavoro a tutti i guardi facci una tesi io si chiudo chiudo il discorso insomma e e la lezione in questo modo in questo modo noi abbiamo un patto con i miei ragazzi e ragazze che è quello che possono preparare il loro esame a partire da un approfondimento quindi Roberto già lo sa ma avverto anche voi è capace che io vi metterò in contatto con qualcuno di loro che vogliono approfondire alcuni dei temi che avete sollevato e credo che questo possa anche essere un utile esercizio che possa uscire dalle aule che poi su questi temi tutto sommato è ciò che conta di più non so se da casa qualcuno vuole fare un ultimissimo intervento di due minuti solo per ringraziare grazie mille va bene e grazie a voi allora per l'attenzione e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti